Diciamo che quando parliamo dei volontari di Gigi Ghirotti viene subito in mente l'assistenza, giustamente l'assistenza domiciliare e l'assistenza che si fa negli ospiti della Gigi Ghirotti. Al di là di questo poi esistono varie possibilità di impegnarsi nel volontariato nella Fondazione Gigi Ghirotti proprio in aiuto al servizio, c'è il servizio della consegna dei farmaci, farmacia, nella stessa ufficio promozione, aiutare durante gli eventi, quindi la presenza negli eventi, la disponibilità appunto anche se uno è bravo a impegnarsi nell'organizzazione degli eventi stessi. Si può dare la propria esperienza lavorativa specifica anche negli uffici, un buon ragioniere è utilissimo, ma anche le persone, io le chiamo quelle con le mani d'oro, mi viene in mente il mercatino di San Nicolale, quindi veramente adesso probabilmente me ne dimentico molte altre. Grazie a tutti!